Ah Maure, io te lo dico perché ormai siamo fra amici, ma con sta storia della chattata non è che ci hai fatto proprio una bella figura, eh? Di cosa sto parlando, vi state chiedendo? Ebbene, io e il caro Mauro Biglino abbiamo avuto un contatto, direi, del terzo tipo. Volete sapere di più e volete leggere cosa ci siamo scritti? Lo scoprirete dopo la sigla. Un saluto a tutti quanti, io sono Luca. Quarto video dedicato a Biglino, o come noi lo chiamiamo, Mauretto. Anche questo video è stato ovviamente finanziato dai nostri bellissimi Wannabe Premium, ossia un gruppo di persone che ha deciso di sostenere economicamente il nostro progetto per permetterci di realizzare sempre nuovi video. Nei precedenti video abbiamo fatto un'intervista a una persona che è stata minacciata di morte dei sostenitori di Biglino, abbiamo analizzato la sua storia, la sua non formazione, ed infine abbiamo identificato il principale trucco che usa, la manovra di Biglino. In questo nuovo video invece prenderemo in esame molto liberamente il nostro scambio di battute. Questo confuta a priori tutti quelli che mi criticheranno di non aver mai avuto un confronto con lui. Come potete vedere, l'incontro c'è stato. E com'è andato? Ebbene, ve lo mostro qui. Ecco l'intera conversazione. Lo screen si apre con i soliti sostenitori di Mauretto che, dall'alto della loro mancanza di formazione, decidono di credergli unicamente per fede. In pratica, dei minion. Sono le frasi che io leggo sempre quando si ha a che fare con i sostenitori di Biglino. Siamo sullo stesso livello dell'estremismo religioso, nonostante Mauretto stesso abbia ribadito più volte che lui non è un leader religioso ed è agnostico. Il che rende la cosa ancora più paradossale. Quando a certa gente gli fai notare che si sono spostati da una fede all'altra, questi letteralmente sclerano. In questo specifico caso, infatti, hanno taggato proprio Mauretto. Evidentemente nella falsa speranza che conesse fine alle mie contestazioni con la spada de foco. Ma la spada de foco! Ovviamente Mauretto, appena ho smontato la sua retorica spicciola, è sparito. E di conseguenza i suoi minion, trovandosi senza più il paladino, alla fine hanno scelto di bloccarmi, impedendomi così di poter parlare e quindi di dimostrargli altri errori fatti dal loro profeta. Di fronte ai propri limiti, infatti, la gente sceglie sempre la censura o la fuga. O tutte e due le cose. Trovare il padrone più cattivissimo per servirlo. E questi c'hanno pure il coraggio di parlare dei libero pensiero e a volte pure di spiritualità? Bah! Comunque, ecco il nostro bellissimo scambio di battute avvenuto su una bacheca pubblica. Chissà, magari oggi l'hanno pure cancellato. Leggo e commento e lo farò riferendomi direttamente a te, caro Mauretto. Magari avremmo occasione di riprendere di sua vita questo nostro bel discorso. In live o in un evento pubblico, perché no? Ma fino a quel momento, visto che comunque tu sei scomparso, eh, me docca a far così. Ecco gli screen. Ovviamente parte il minion di turno, che come sempre dice che non si sa bene quali presunti accademici avrebbero confermato delle verità risapute di chi parla Biglino. E quindi lui dice che la sua non è una fede, e anzi riabbedisce che invece il mio seguire il metodo accademico è una fede anch'essa. Ovviamente lui però non crede in quello che scrive Mauro, ma lo trova interessante e degno di riflessione per mettere in dubbio delle credenze. Quindi anche lui in primis crede nel dubbio. Io ovviamente gli preciso che la scienza come approccio è proprio il contrario della fede e basta usare tranquillamente Google per fare una ricerca e si trova tantissima gente che comunque lo critica e molti sono anche linguisti e storici delle religioni. Ecco quindi che gli do il link al forum Consulenza Ebraica, che notoriamente appunto è frequentato da persone che studiano ebraistica. E gli faccio notare nuovamente che non si tratta di credere o non credere, ma si tratta semplicemente di un basarsi sulle evidenze e per quel che riguarda una presunta creazione da parte degli alieni e tali evidenze non ci sono. È preciso che comunque il metodo accademico non dice no a priori, dice vero fino a prova contraria. Quindi se un giorno effettivamente noi avremo una prova scientifica reale, non un'ipotesi, che conferma il cosiddetto eso intervento, chiaramente tutta la comunità scientifica di fronte alla prova, di fronte ai fatti prenderà atto della realtà. Ma fino a prova contraria, cioè fino a che non c'è niente di niente, purtroppo l'eso intervento non può essere preso in considerazione in nessuna maniera. E in più confuto anche il solito luogo comune che vedrebbe Biglino come unico oppositore alla Chiesa e la voce di Biglino come unica rilettura non teologica e non religiosizzata della Bibbia, cosa assolutamente falsa che vedremo anche poi in futuro. E non bisogna cadere nella paleoastronautica per poter avere uno sguardo critico nei confronti della Bibbia, cosa che hanno fatto un sacco di persone, a partire anche dai comici mi viene in mente, per dire Bill Hicks ben precedente a Biglino. Ma tra l'altro anche noi abbiamo fatto un sacco di critiche proprio alla Chiesa, alla fede in generale, che potete trovare nelle schede qui in alto, quindi c'è Biglino non è stato un innovatore, un rivoluzionario di niente, cioè parla in maniera molto fantasy, anzi sci-fi, quindi fantascientifica, di critiche alla religione e alla fede, cioè nulla di che. E poi ovviamente chiudo dicendogli che è inutile che tagga Biglino, lo hanno fatto mille volte, tanto lui non interviene mai. Effettivamente è vero, più volte, e io mi sono trovato a fare delle critiche di un certo tipo, più volte il minion di turno taggava Biglino e tutte quelle volte Biglino non si è mai palesato, non è mai sceso dall'Olimpo. Evidentemente, forse perché ho detto Mauro Biglino non si presenta mai, forse perché evidentemente questo minion aveva un rapporto diretto con Biglino, adesso io non lo so, fatto sta che, strano ma vero, strano ma vero, lui atterra dalla sua astronave dello spazio e viene qui tra noi mortali. E leggiamo tutto quello che lui ha scritto, questa sorta di wall of text, che butta tanto fumo negli occhi, ma da un'analisi logica, mostra una fallacia dietro l'altra. Leggo, chi parla di evidenze evidentemente non sa che nel mondo ebraico ci sono tutte le posizioni e che quindi quelle evidenze tanto fideisticamente evocate non esistono. Ma spesso i dogmi sono così. Visto che è stato citato il forum consulenza ebraica, ma solo in parte, informo che contiene, tra le altre, queste affermazioni testuali. E qui lui fa dei copia e colla di gente che lo elogia, quindi che ne so. La Bibbia parla di ingegneria genetica, i cherubini sono oggetti meccanici, facci complimenti al capitolo su Satan di Mauro Biglino, ci sono due DNA e la letteratura ebraica lo conosceva già da millenni, eccetera, eccetera, eccetera. Come si vede bene in consulenza ebraica, aggiunge quindi Biglino, ci sono un sacco di affermazioni che corrispondono perfettamente alle mie e lo stesso Emmanuel Tov, Hebrew University di Gerusalemme, esaggeta di gran lunga più importanti di tutti quelli presenti in quel forum, scrive che Elion, El e Yahweh non sono vari modi per indicare il Dio di Israele, ma corrispondono in realtà a tre individui diversi, cioè che Elion ed El non sono epiteti del Dio di Israele, ma di nomi di dei noti anche nel Pantheon Ugaritico e Cananeo, e che il Salmo 82 parla di un'assemblea di dei, non di giudici, come spesso è affermato dai saggeti monoteisti che devono difendere la loro opposizione. E poi beh, dice, Textual Criticism in the Bible, edizione 2001. Nelle edizioni ebraiche, Mamash, Shemot 2010, a proposito di Shema Israel, si scrive che in quel passo non si afferma che Dio è unico, ma che è uno come il primo di un elenco, poiché è un aggettivo che si attribuisce a qualcosa che si può contare. Per cui ripeto che nel mondo ebraico le posizioni sono tante, diverse, e che quindi le evocate e sperate evidenze stanno solo nell'accettazione fideistica di chi prende per vero e indiscutibile ciò che gli piace di più. Io invece faccio finta! Questa è la libertà di cui godo io e, con me, coloro che praticano lo stesso metodo senza dare per certo nulla. Anche perché da quei libri non si possono ricavare evidenze certe. Tanto vero da quell'ipotetico Dio che è stato inventato per suffragare posizioni ideologiche e religiose. Buona giornata e buon tutto, per il prossimo periodo comunque lo si intenda. Ovviamente il minion immediatamente va a rendere omaggio alla divinità che è scesa dal cielo. A questo punto arriva la mia risposta. Oh, e come mai il caro Mauro Biglino è sceso dall'Olimpo? Evento più unico che raro. Ti prego però, adesso non scappare via. Resta a giocare. Quando parlo di evidenze, non parlo affatto di fede. Parlo di evidenze scientifiche. Ad oggi non c'è traccia alcuna di esseri venuti da altri pianeti che avrebbero fatto esperimenti genetici sulle scimmie creando così l'uomo. Se tu o altri sostenete il contrario, dovete dimostrarlo e non con libere interpretazioni di un testo fantasy scritto da Beduini del deserto. Parlo di concrete prove tangibili ed analizzabili in laboratorio. Dato che non ci sono, i tuoi scritti sono né più né meno che la stregua della narrativa per ragazzi. Citare frasi a casaccio di un forum non serve a nulla. Fra le mille critiche che ti vengono mosse, c'è proprio quello della decontestualizzazione e del cherry picking. Chi ha detto certe cose? Che titoli hanno? Ma soprattutto come sono state confutate dagli altri utenti del forum? Quelli che davvero sono linguisti? In ultima analisi, ti contesto anche la scarsa attenzione in quello che leggi. Io non mi sono limitato a citare un forum. Ho messo un articoletto riassuntivo dove ti vengono mosse chiare contestazioni proprio a livello di traduzione. Citare frasi random e autocelebrative non è la risposta a tali contestazioni e mostra nuovamente la tua totale mancanza di metodo. La citazione che hai fatto a Emmanuel Tov è nuovamente una decontestualizzazione. Quelle parole non conferman in alcuna maniera i presunti esperimenti genetici di cui parli. Qui siamo nella totale cattiva fede, a mio parere. Non puoi abusare del credito di altri accademici per avvalorare le tue libere letture. Leggasi delirico. Lieto di averti dato una lezione di argomentazione, le prossime me le paghi. E qui Mauretto scompare del tutto e io gli lascio come ultimo regalo il classico meme non sto dicendo che siano alieni ma erano alieni. Eccolo bellissimo di History Channel. Ok, qui notate i soliti tipici errori. Innanzitutto io parlo di evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche non sono religiose e fideistiche. Tu puoi credere quello che ti pare. Puoi dare mille interpretazioni teologiche. Però al di là della teologia poi ci sono dei fatti. In questo caso la genetica. Se a livello genetico non c'è nulla che dimostra appunto un eso intervento o al contrario è stato dimostrato a livello genetico che noi non siamo nati da nulla ma c'è un'evoluzione e a questo punto sia la lettura teologica del creazionista che la lettura dell'eso intervento vanno letteralmente a buttarsi nel cesso poiché la scienza ha dimostrato tutt'altro. L'errore di Biglino è pensare ma in realtà questo l'ho visto fare anche da tutti i biglignani che il dibattito attorno alla Bibbia sia unicamente Biglino contro la fede. Ma come è ben noto a me la fede fa schifo io con la Bibbia mi ci pulisco il culo quindi non mi si può rispondere appunto a me di come dice lui essere dogmatico come leggo qui quando io dico esattamente il contrario. Io non porto l'argomento alla fede, alla religione, alla teologia dice opposta a Biglino io dico che sono tutte puttanate di partenza e lui o non ha capito o ha fatto finta di non capire e come sempre ha spostato di nuovo l'argomento sulla religiosità, il dogma e la fede. Un'altra cosa che gli ho criticato è di fare appunto cherry picking ossia in un immenso cestino di ciliegie andarsi a scegliere proprio la ciliegina preferita. In questo caso lui ha sciorinato una serie di copia e colla senza mettere né autore né chi né cosa dove gente random nel forum consulenza ebraica gli scrive delle cose che appunto bravo mi è piaciuto il coso mi è piaciuto qui hai detto bene è suo intervento DNA eccetera. Queste frasi buttate così in realtà hanno valore meno di zero perché chi le dice molto probabilmente in base a quello che scrivono non sono persone che hanno una formazione di settore ma sono appunto quello che descrivevo prima l'utente random che di ebraistica non sa una mazza che è andato nel forum consulenza ebraica per scrivere boh delle cose tipo mi piace biglino e sperare anche lui come facevano sempre poi sotto i miei video di avere l'approvazione delle persone che invece ebraistica la studiavano per davvero e infatti se uno va poi a ricercare queste discussioni ecco che poi ti trovi invece i veri accademici i veri ricercatori le vere persone che stanno nell'università a studiare ebraistica che rispondono confutando punto per punto queste frasi che anche quelle che proprio ha allincato biglino non hanno senso all'interno della bibbia perché nella bibbia non si parla di DNA non si parla di nefilim che usano ingegneria genetica non si parla di niente di niente sono interpretazioni interpretazioni molto libere di mauretto per finire con la solita sparata di nomi riferimenti testi cose che anche lì la gente che lo segue non andrà mai a controllare usando anche in questo caso la famosa manovra di biglino ossia si parte da un'affermazione A cioè che certi nomi biblici non sono nati nella bibbia e che probabilmente sono mutati da idee culture religioni eccetera precedenti partendo da questa frase da questa affermazione lui poi ci va a costruire tutt'altro intorno comunque fa intendere tutt'altro ecco che il lettore disattento dirà wow ma allora anche gli altri accademici confermano che ci hanno creato gli alieni quando invece magari altri accademici hanno solamente detto ehi questo nome compare anche 200 anni prima da un altro popolo che c'è un abisso ma così come l'ha messa lui è facile cadere nel fraintendimento e il minion di Biglino c'è casca ed ecco che nel momento in cui ha trovato qualcuno che non gli parla di fede ma gli parla di scienza ed evidenze e sgama queste sue manovre dialettiche in più gli confuta rispondendo tono su tono anche perché zola io ho appena detto resta a giocare con me non scappare ti ho dato una lezione di argomentazione cioè quando ha capito che invece l'avversario era a un altro livello e quindi non era il solito fideista credulone Dio ti punirà perché hai detto che sono alieni e non era la Madonna e Gesù Cristo ha trovato uno che invece dice sono tutte puttanate e ora ti dimostro che anche le tue sono sicuramente delle puttanate ecco che sparito cioè c'è proprio un cambio di registro c'è proprio un modo diverso con cui si diciamo relaziona con certa gente e non si relaziona perché non si è più relazionato con certa altra gente ovviamente quello che vi ho detto è un'espressione di quello che io ritengo in modo soggettivo quindi secondo me come sono andate le cose secondo me è gli errori che ha fatto caro Mauretto se evidentemente mi sbaglio dimostramelo magari facciamo appunto un bel confronto come tu hai già fatto dei confronti con dei teologi degli ebrei questo e quell'altro fallo anche invece con degli esponenti della laicità esponenti dell'ateismo ed esponenti anche dell'accademia quindi ci vediamo una bella tavola rotonda digitale davanti a tutti comunque sempre in pubblica piazza perché non c'è motivo di farla a porte chiuse fra di noi dove ci mettiamo io, te e un paio di ebraisti che seleziono e vediamo cosa esce fuori no? Qual è il problema? Quello che mi domando è perché non sia ancora mai avvenuto nulla del genere ma soprattutto perché la gente continua a dare credito a una persona che a conti fatti commette tutte queste fallace logiche? E voi? Che ne pensate di questa nostra schermaglia digitale? scrivetemi la vostra opinione nei commenti e ditemi cos'è che genera tutto questo? Cosa spinge le persone a crederci? Si chiude così il quarto video questo è un video che ci tengo particolarmente a fare e che vorrei che voi andaste tutti quanti a postarlo proprio sulla bacheca di Biglino perché mi ha lasciato così in sospeso tipo il cliffhanger a fine puntata delle serie tv senza dare una risposta ma attenzione chiedetegli gentilmente di non darmi una risposta di nascosto in chissà quale pagina sperduta di quale forum o in una conferenza a cui io non andrò mai e non vedrò mai io sto qui il mio indirizzo mail lo conoscete tutti quanti la mia pagina facebook la conoscete tutti quanti sapete esattamente come prendermi come rintracciarmi quindi dite a Mauretto che se ha qualcosa da ribattere possiamo farlo tranquillamente uno a uno si chiude così il quarto video ma non disperate c'è ancora molto altro da dire e molto altro di cui ridere forse l'unico che non riderà qui è Mauretto e ovviamente probabilmente non rideranno neanche tutti i suoi follower seguaci se lo traduciamo in maniera interlineare che ovviamente come dei piccoli lioncini da tastiera si riverseranno qua sotto nei commenti scrivendo solo insulti e frasi sgrammaticate tipo hanno stato gli alieni e vai col prossimo video in 3 2 1 ciao Grazie a tutti